Siamo in taxi in direzione Bangkok dopo a Thaïa, nella macchina siamo io e il taxista e ti prego che sto dormendo. Thaïa finisce qua per il momento, facciamo un'isola che consiglio a chi vuole fare del turismo di un certo tipo, perché lì è tutto basato sul sesso, non esistono altre questioni, c'è il sesso e tutto basta, non è che c'è il sesso e l'alternativa, anche perché il mare non è che sia il massimo e quindi il sesso è basta. E' tutto, se sono maschi, se sono indone, se sono andraschi, se sono no, ti prego come vedete è distrutto, adesso ci manca gli ultimi giorni a Bangkok, il traffico fa un casino, ci sono anche i cartelli, welcome to Bangkok, adesso stavo andando con il tarzista, il mio tempo al taxi non costa veramente niente, 3 euro di taxi, stiamo spendendo circa 30 euro, 30 euro, 3 euro di taxi, compreso tutta strada e tutto. Quindi che dire, stiamo pensando di organizzare delle vacanze per dare la possibilità a chi voglia di venire a fare una vacanza con me e Andrea, quindi basta che ci contattate per mail o in posta e vi sappiamo dire di più. da Max Felicitas, Andrea di Pia che sta dormendo, tutto, e vi aggiorneremo ovviamente il cuore di Bangkok. Mi salutate. Andrea. Tutto a posto? Sì, sì, è bello fratto. Cosa dici agli amici che ci seguono? Stiamo andando un baccotto, condizioni di salute. Com'è il tuo stato di salute attuale? Da 1 a 10 che voto dai la tua salute adesso? Quattro. Stai sperando di ritornare in Italia vivi? No, ma sta bene, stessualmente sta bene. Un saluto da Max Felicitas e Andrea di Pia e chi è lui? E' il nostro schiavo. A presto. Ad aprile aprile, mentre adesso escele.